Ma allora, questo pack conviene o no? Io spero con questo video di mettere la parola fine sulla questione se il pack conviene o no. In questo video fornirò un'analisi statistica su casi veri, visto che mi avete contestato che è, ma nell'altro sono casi sintetici. Casi veri vi metterò a disposizione il file Excel, così se per caso volete fare un pack differente, se per caso volete fare un pack su un altro indice, potete verificare voi stessi andando a cambiare i numeri dentro, vi dimostrerò che il pack non serve assolutamente a nulla. Non solo vi dà dei rendimenti massimi di gran lunga inferiori a un investimento immediato, non solo vi dà dei rendimenti medi inferiori a un investimento immediato, ma non serve nemmeno per proteggervi da quel caso. Eh, ma se entro proprio quando il mercato sta calando, a parte ovviamente la questione che tu non puoi sapere se il mercato sta calando e se lo sai non entrare, comunque vedremo che anche nel caso pessimo il pack vi salva così poco proprio una inezia. Lo vedremo sullo Standard & Poor's, e lì il pack fa una debacle tremenda, lo vedremo invece su un indice che negli ultimi decenni è andato così così, non si può dire male perché non è andato giù, ma non è neanche andato su, che è il Fuzzamib, che ha fatto un po' su e giù, su e giù, su e giù, che è il caso un po' più conveniente per il pack perché dilaziona le cose, e addirittura vedremo il famigerato Smart Pack. Lo Smart Pack, soprattutto per un indice che va su e giù, su e giù, su e giù, dovrebbe essere proprio non plus ultra perché lui va astutamente a comprare quando va giù e a non comprare quando va su e vedremo che anche questo non è che funziona un granché. Al solito vi lascerò il foglio Excel così non mi rompete gli em, scusate, così non dovete chiedere a me di fare altre analisi, potete farvele voi inserendo il vostro indice preferito e inserendo un pack a durata preferita. Il pack che simuliamo qui è un pack di 10.000 euro da fare in 36 mesi. Quindi andiamo a confrontare il pack con un investimento secco, immediato. Chiaramente se voi non avete i soldi subito, e beh, allora non c'è neanche da chiedersi se il pack convenga o meno, perché è ovvio che il pack conviene. Questa analisi serve per chi i soldi ce li ha, ma decide, a me inspiegabilmente, di dilazionare l'investimento ritardandolo mese per mese, perché su Reddit glielo consigliano vivamente. Ecco, andiamo a vedere cosa succede a questa persona qui, quindi una persona che dilaziona un investimento di 10.000 euro in 36 mesi, raffrontato con una persona che invece investe subito. Vediamo cosa succede dopo 36 mesi. Inutile andare a vedere cosa succede dopo 10 anni, perché a partire dal 36esimo mese la loro situazione è identica, hanno lo stesso andamento, ovviamente. Andiamo a vedere il foglio Excel, eccolo qui. Questo è l'indice Standard & Poor's 500 dal 2 gennaio 1970. Siete soddisfatti? Dati veri, belli, belli, belli. Arriva fino al 16 novembre 2022. Abbiamo quindi una, quanto abbiamo? 13.339 dati. Cosa ho fatto? Ho fatto le colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino alla 35, che rappresentano, vedete, questo qua è uguale a B23. Questa qua è uguale a C23. Quindi, un altro mese, che rappresentano il prezzo, un mese dopo, due mesi dopo, tre mesi dopo, quattro mesi dopo. Ora, non è esattamente il mese spaccato al giorno, perché ogni tanto capita che il mercato è chiuso e quindi comunque non potete acquistare. Ogni tanto capita che il mese di mercato dura un po' più di 23 giorni, un po' più di 22 giorni, un po' meno di 22 giorni. Comunque, approssimativamente è un mese. Anche voi, quando investite, non è necessariamente detto che investiate proprio giusto giusto al mese. Ok, quindi ogni colonna è praticamente spostata di un mese. In modo che io possa, ad esempio, simulare con questa riga un pack che inizia il 2 gennaio 1970, comprando la prima quota a 93, poi il, questo qua cosa ho riferito, il 2 febbraio 1970, comprando la quota a 85, poi il 2 marzo 1970, e così via. Ah, tra l'altro questo è un pack che dovrebbe andare bene, perché, vedete, scende. Qui dovrebbe andare non tanto bene, ma meglio di comprare tutto e subito, vedremo. Quindi io posso fare una simulazione ogni giorno. Faccio un altro pack che comincia il 5 gennaio 1970, un altro pack che comincia il 6 gennaio 1970. Quindi posso avere un più di 10.000 simulazioni. E in questo modo permettetemi di fare una pernacchia a tutti quelli che chiacchierano dicendo il pack, il pack, il pack, fatemi 10.000 simulazioni e fatemi vedere che non è come dico io. Andiamo a vedere i calcoli che sono dopo queste lunghe 36 colonne, ecco qui. Come faccio a calcolare quante quote avete dopo 36 mesi? Voi vedete entrate con 10.000 diviso 36, perché quindi allocati 10.000 error differenziati per tutti i 36 mesi. Questi 10.000 diviso 36 sono divisi per il prezzo 93 al primo gennaio, più 10.000 diviso 36 divisi per il prezzo 85, quindi in questo caso comprerete più quote, più 10.000 diviso 36 diviso per 90, comprerete un po' meno quote, un po' di più, un po' di più, un po' di più, ok? C'è per fortuna in Excel la funzione, io avrei potuto scrivere il formulone lunghissimo, c'è in Excel la funzione sum product, quindi mi fa questa, scritta in questa maniera qui un po' particolare, mi fa 1 fratto B2 più 1 fratto C2 più 1 fratto D2 più 1 fratto E2, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti fatevi proprio, fatevi sulla prima riga il conto con la matitina e vedete che viene alla fine che riuscite col vostro pack ad acquistare 105,2 quote dello Standard & Poor's. Quindi voi arrivate al 36esimo mese, quindi a gennaio del 73 e avete acquistato 105,2 quote dello Standard & Poor's. Quanto valgono queste 105,2 quote dello Standard & Poor's al 36esimo mese? Beh, basta moltiplicarle per il valore al 36esimo mese, quindi valgono 12.278 euro. Se voi invece aveste investito 10.000 euro, secchi secchi, in questo caso sono dollari perché ovviamente è lo Standard & Poor's, secchi secchi, al primo mese, ecco qui, 10.000 diviso B2, che è 93, vediamo per curiosità quante quote sarebbero state, cambio la formula un attimo, sarebbero state 107 quote, quindi avrei avuto due quote in più, moltiplicato per il prezzo al 35esimo mese fa, ecco qui, quindi in questo caso col pack io al 36esimo mese ho 105 quote che valgono 12.278 euro, dollari, con l'investimento secco avrei circa 107 quote che valgono 12.550 dollari. Col pack rispetto ai miei 10.000 dollari iniziali ho fatto un rendimento del 23% in tre anni, che è tanto, investendo tutto ho fatto un rendimento del 26%, ok? Benissimo. Questa simulazione qui io la faccio per ogni giorno, quindi giorno di mercato inteso, perché ad esempio il 2 gennaio 70, lo ricordo bene, era un venerdì, infatti 5 gennaio, era lunedì. L'ho fatto, come vedete, e queste sono quanto vi ha reso il pack e queste sono quanto vi ha reso l'investimento secco. Queste due variano molto lentamente perché si tratta qui di un pack che inizia il 2 gennaio, questo è un pack che inizia il 5 gennaio, quindi la differenza è poca, quindi li vedete variare lentamente, ma se scorrete veloce vedete che ci sono anche periodi, questo periodo è sempre un periodo nero per il pack, il pack ha reso DM, invece l'investimento immediato ha reso bene, scommetto che tra un po' si rebalta però, vediamo, no il pack continua a rendere poco, addirittura qui il pack mi diventa negativo, ah però inizia a diventare negativo anche l'investimento secco, ecco qui ancora negativo, negativi, negativi, vedete variano insomma, ci sono dei momenti in cui il pack va un po' meglio, eccolo, meno 15, meno 25, quindi qui il pack ci ha perso il 15%, investendo tutto subito ci ha perso il 25%, ecco meno 3, meno 17, qui il pack ha reso grande, grande, ok, a questo punto ci chiediamo delle cose, ci chiediamo innanzitutto, quant'è il rendimento medio, rendimento medio è la prima cosa che uno si chiede, del pack e di tutto, il rendimento medio è questo qui, vedete c'è average, il rendimento medio del pack è 14%, quindi questo è il rendimento Standard & Poor's a 3 anni, facendo un pack di 3 anni, io l'ho fatto con 10.000 euro ma è indifferente, l'ho fatto per potervi farvi vedere i soldi, avrei potuto farlo con uno ma avreste detto, eh ma io non investo un dollaro, quindi il rendimento medio del pack a 3 anni nel periodo 1970-2022 sullo Standard & Poor's è ufficialmente, e senza possibilità di smentita, il 14%. Rendimento medio, entrando a gamba tesa nel mercato e tenendo per 3 anni, sullo Standard & Poor's dal 70 al 2022 è il 28%, il doppio. Ok, è già qui, ma questo lo sapeva, anche se forse i sostenitori del pack non lo sapevano così massicciamente, pensavano vabbè faccio il pack, ci perdo in 3 anni, ci perderò l'1, 2, massimo il 3%, no no, in media sullo Standard & Poor's in 3 anni ti prendi la metà del rendimento, questo è quello mediano, non entro nei dettagli statistici la differenza tra la media e la mediana, comunque anche questo il pack è esattamente la metà. Andiamo a vedere però dove il pack dovrebbe overperformare, quindi il rendimento pessimo, quindi il caso più sfortunato del pack e il caso più sfortunato dell'investimento tutto quanto subito. Eccoli qui, il caso più sfortunato del pack perdete il 46% in 3 anni, il caso più sfortunato del tutto subito perdete il 48%. E a questo punto ve lo dico onestamente, perché voi andate a dimezzarvi il rendimento medio per risparmiarvi nel caso pessimo un 2% di perdita, quindi passare da una perdita del 48% a una perdita del 46% che probabilmente non vi accorgete nemmeno della differenza. Qui proprio secondo me questo, almeno per lo standard and poor, perché lo standard and poor vedremo dopo qual è il motivo di questo risultato clamoroso, questo standard and poor proprio zitti e non c'è niente da dire per salvare il pack. Il pack qui muore, definitivamente, perché vi porta come beneficio, nel caso pessimo una perdita del 46% rispetto alla perdita del 48%. Praticamente ci prendete la stessa cosa. Nel caso medio vi ammazza il rendimento, ve lo dimenti a secco. Inutile menzionare il caso ottimo, quindi il caso ottimo per l'investimento immediato, in cui il pack fa il 57%, scusate, il caso ottimo per tutti e due, scusate, in cui il pack nel caso migliore fa il 57%, investire tutto subito nel caso migliore fa il 116%. Perché succede questo? Per due motivi. Il primo è una caratteristica del mercato azionario, fare dei grossi rally in salita. E andare col pack quando c'è un grosso rally in salita, ci si perde. Infatti è qui la perdita, grossa. Il secondo è perché lo standard and poor tendenzialmente va in salita. Andiamo a vedere i grafici. In rosso investendo tutto subito e in blu andando col pack. Vedete, il caso pessimo per investire tutto subito è questo, questo è il famoso meno 48. E il meno 46 del pack dovrebbe essere questo. No, questo è meno 43. Probabilmente c'è qui in sovraimpressione immediatamente sotto anche il meno 46 del pack. Quindi è stato un caso in cui si entrava a mercato nel 2005 e poi ci beccava il grosso crollo del 2008. Ma forse questo grafico si capisce meglio se si vede in sovraimpressione l'andamento dello standard and poor. Apprezzerete il fatto che io prima faccio vedere i conti e poi faccio vedere i grafici. Perché fa vedere solo i grafici, con i grafici posso raccontarvi qualunque cosa, però solo quei conti si vede. Ecco qui, qui in verde c'è l'andamento dello standard and poor. Scala logaritmica, e attenzione, scala logaritmica. Mentre a destra. Mentre scala a sinistra il pack è investire tutto. Ecco qui, questo crollo è chi ha iniziato a investire qui, che sia andato di pack o che non sia andato di pack, si è presa questa pacca qui, questa... Ho voluto fare il gioco di parole, perdonatemelo. Questa caduta improvvisa del 2008, la famosa caduta del 2008 qui. E in questo caso entrambi ci perdono. Poi rimane molto più giù l'investimento immediato. Ok, ma guardate come si riscatta. Guardate anche qui come si è riscattato nei primi anni 90. l'investimento immediato, che picchi che ha fatto. In generale si vede chiaramente dal grafico che l'investire tutto subito è quasi sempre sopra il pack. Non sta sopra il pack soltanto in alcuni casi clamorosi, tipo questo e questo, ma non è che va sotto di tanto, va sotto di poco, di pochissimo. Mentre qui quando sta sopra, guardate sta sopra qui, il pack arriva a 56, tutto subito arriva a 110, 113. Anche qui. Quindi penso che questo grafico, anzi questo che forse si vede meglio, non lascia spazi a dubbi sul fatto che quasi sempre investire tutto subito è meglio. Andiamo a vedere però un mercato molto più favorevole al pack. Quindi un mercato che non va su così, anche se onestamente voi dovreste investire solo nei mercati che va su così, non dovreste investire nei mercati che fanno così. Non vedo nessun motivo per farlo. Vediamo un mercato che fa così, o meglio che fa così. Fuzzamib italiano, 31.12.97 è il primo dato che abbiamo. Sono un po' di ref perché chiaramente non ho più i dati del mese prima, vedete? Il 19.10.2022 smetto di avere i dati di un mese dopo. Anche qui faccio la stessa identica cosa, quindi questo è il prezzo del Fuzzamib al 30 gennaio del 98, questo è il prezzo del Fuzzamib, è questo qui, che è questo qui, al 2.398 e così via. Le formule sono identiche, l'unica cosa se per caso usate i vostri dati e dovete semplicemente cambiare la prima colonna, ma state attenti a questa perché le date non è detto che siano le stesse e soprattutto non è detto che abbiate lo stesso quantitativo di date, prolungate in giù i numeri. Io vi lascio il foglio Excel non perché sono buono, ma perché così quelli che mi scrivono «Eh, ma se usavi invece l'indice tal dei tali?» gli rispondo «C'è il foglio Excel, usatelo!» perché non è che chiaramente posso fare l'analisi per tutti gli indici che vi saltano in testa. Ok, e quote? Ne acquisto solo 0,3 perché qui l'indice è molto più alto, quota attorno al 30.000, però possiamo anche aumentare. Questo quindi quanto mi vale il pack e quanto mi vale tutto. Ecco qui, pack tutto. Ok, questo è un po' più favorevole al pack, come avevo già anticipato. In media si comportano uguali, il pack fa 0 e investire subito meno 1, praticamente irrilevante. Possiamo chiedere un po' più di cifre, ok, meno 0,2, meno 0,8. In mediana va un po' meglio il pack, 1,1 contro meno 3,7. Ok, quindi in media qui va abbastanza leggermente meglio perché l'indice continua ad andare così, quindi non sale mai. Quindi è un investimento di M. Guardiamo però se fa il suo dovere, perché il dovere del pack è quello di limitarmi le perdite. Ecco qui come fa il suo dovere. Caso pessimo di investire tutto, meno 67%, caso pessimo di investire col pack, meno il 60%. Anche qui io vi assicuro, avete un 10% in meno di perdite, probabilmente non ve ne accorgete nemmeno. Invece, nel caso in cui vi va di fortuna e avete beccato il periodo in cui Fuzza Mib saliva, col pack ci fate il 37%, investendo tutto subito, raddoppiate il capitale, in tre anni, 92%. E per quelli che fanno invece il pack su Bitcoin, voi non sapete quanti, quanti dicono DCA su Bitcoin, DCA su Bitcoin, pack su Bitcoin. Ora, se avete capito com'è l'andazzo, immaginate che qui per il pack sarà un bagno di sangue, questo sì che è un indice che va su così. E infatti, eccovelo qui, questo Bitcoin, st'è solita cosa. Dispongo di 10.000 dollari, inizio il 17 settembre 2014. Ah, se mettete dati vostri, mi raccomando, devono fermarsi qui, appena vedete dei ref, cancellate tutto quello che sta nelle colonne ALMNOP. Appena vedete l'errore ref, qui c'era l'errore ref, ve lo faccio vedere. Ecco, appena vedete questo errore qui, non è importante, questo errore può stare, però cancellate tutto quello in queste cinque colonne, altrimenti sballate le statistiche. Perché questi sono dati che non possiamo utilizzare, perché non possiamo utilizzare un pack qui, perché questo richiederebbe i dati di dicembre 2022, vedete? Questo, la colonna 35 è dopo tre anni esatti, richiederebbe i dati di novembre 2020, non ce li abbiamo, e quindi, mi raccomando, tagliate queste colonne, altrimenti vi vengono risultati sballati nelle statistiche finali. Ecco qui, vediamo, allora, caso medio, questo è il caso medio, 245% col pack, 621 investendo tutto subito. Si parla di il capitale che diventa 3 volte e mezza e qui il capitale che diventa 5 volte. Caso mediano, capitale che diventa 2 volte e mezza, capitale che diventa 4 volte qualcosa. Il caso ottimo, fate un più 2000% e qui fate un più 4000, voi dite, vabbè, mi accontenterò del più 2000%, eh vabbè, ma vediamo se il pack fa il suo lavoro. Qui il lavoro un po' lo fa, un po' è però. Se voi fate un pack su bitcoin a 3 anni e vi va veramente di sfortuna, guardare di sfortuna vuol dire che probabilmente avete iniziato il pack che so, settembre 2017, così avete concluso settembre 2020, no, settembre 2020 già è iniziato alto, avete iniziato a gennaio 2017, questo è il caso sfortunato. Avete perso la metà col pack, investendo tutto subito avreste perso il 63%. Qui magari leggermente ve ne accorgete, diciamo i vostri 10.000 euro, qui sono diventati 5000, qui sono diventati 3.700, però piangete in entrambi i casi, non è che dite, ah, meno male che ho fatto il pack, meno male che ho fatto il pack, un pack, e soprattutto vi siete persi un rendimento, ma non guardiamo quello massimo, quello medio, mostruoso. Quindi, paradossalmente, il pack non vi salva in tutti questi esperimenti tendenzialmente mai dalle grosse perdite, vi salva da dei brutti rendimenti medi, ma di pochissimo, ecco qui, in questo caso qui, vi salva, vi migliora leggerissimamente la media, ok, e a questo punto mi direte, eh ma, c'è lo smart pack, ecco, purtroppo sullo smart pack, le regole per fare questo smart pack, ognuno se le inventa di sana pianta, io per l'altro pensavo che fosse diverso da come poi ho visto che molti fanno, io pensavo che fosse tipo un mese, compri o non compri, in base al prezzo rispetto al mese precedente, quindi se sono giù rispetto al mese precedente compro, se sono su non compro, invece vedo che lo smart pack è un po' diverso, ognuno se lo fa più o meno a modo suo, io qui ci ho messo le regole, se voi avete delle altre regole vi fate il foglio Excel da soli, perché già per fare questo foglio ho messo in ginocchio il mio computer da tante colonne che sono dovuto fare, io l'ho fatto cercando con Google come funziona smart pack, mi sono arrivati tre siti, il terzo era un sito di blablabla che ci fa lo smart pack la figata del secolo ma non diceva come farlo, i primi due sono due siti anche quelli abbastanza blablabla, tra l'altro il primo è un sito che io stimo, non voglio dire qual è, è un sito che io stimo peraltro, però entrambi davano la formula dello smart pack e davano la stessa formula, quindi ho detto ok, formula vidimata, usiamo quella, vediamo come funziona questo smart pack, il primo mese comprate, punto e basta, ora ho messo in EU14 10.000 diviso 36 per evitare di riportarmelo ogni volta, ok, comprate e basta il primo mese, secondo mese, e guardate la formula come è stato costretto a metterla ed era una delle formule più semplici, a seconda, se il prezzo attuale rispetto al prezzo medio di carico, quindi mi sono dovuto andare a calcolare il prezzo medio di carico nelle colonne più avanti, è al 90%, all'85%, all'80%, sotto l'80%, voi comprate la cifra giusta, la cifra giusta per 1,5%, la cifra giusta per 2%, la cifra giusta per 3%, ok, quindi, diciamo, anticipate gli acquisti, non ritarda mai gli acquisti, questo smart pack ho trovato io, ma al massimo li anticipa, anticipate gli acquisti se il prezzo è calato rispetto al vostro prezzo medio di carico, quindi questa formula si replica per tutte le colonne e qui mi sono dovuto dilettare, ecco qui, nel calcolare il quantitativo di soldi che avete investiti, e i prezzi medi di carico, ecco qui i prezzi medi di carico, quindi dovete, ho dovuto fare uno sfaccello di colonne per calcolare quella formula, ok, e attenzione, perché non è finita qui, perché c'è un'altra cosa molto simpatica, la vedete in queste colonne qui, eccolo qui, cosa può succedere? Può succedere che siccome io anticipo acquisti se il prezzo è calato molto, a un certo punto finisco i 10.000 dollari, e quindi non è che posso comprare ancora, perché altrimenti sto barando rispetto all'investitore che ha investito subito 10.000 dollari, quindi vedete, ad esempio, nella prima simulazione io al 33esimo mese questi e quanti soldi ho già speso, questi soldi spesi, ho finito i miei 10.000 dollari e poi non ne spendo più, qui invece no, ho comprato un po' più in ritardo e finisco i miei 10.000 dollari al 35esimo mese, ce ne sono alcuni casi in cui li finisco prestissimo, sono i casi che, chiaramente, quando l'indice va così io i miei 10.000 dollari li finisco prestissimo, perché qui ad esempio ho finito i miei soldi già al 32esimo mese, perché probabilmente ho fatto acquisti per un e mezzo, per due, per tre nei mesi precedenti e quindi poi chiaramente non acquisto più, perché se no, ecco, per tenere conto di tutte queste cose io ho dovuto fare, arrivare alla colonna, a quelle colonna sono arrivato, arrivare alla colonna EO, la dice lunga, ok, il tutto per fornirvi il foglio Excel invece del codice Python, perché sono sicuro che poi andrete a modificarlo e farlo secondo il vostro smart pack, buona fortuna. Qui al solito verifico quante quote ho acquistato con lo smart pack, qual è il valore del mio smart pack e qui qual è il valore invece buttando 10.000 dollari subito. Ripeto per la 74.000 la prima volta che questa analisi è fatta per chi i soldi ce li ha, perché se uno i soldi non ce li ha e deve fare il pack è ovvio che gli conviene fare il pack, però vi sembrerà incredibile a voi che i soldi non li avete, c'è gente che i soldi ce li ha e comunque fa il pack perché lo ritiene una cosa più forte. Guadagno dello smart pack, guadagno di tutto investendo tutto subito. Tra l'altro mi sarebbe piaciuto avrei potuto anche fare l'analisi confrontare lo smart pack col pack normale. Secondo me, anzi dopo guardiamo un attimo. Ok, vediamo. Medio 14.28 Riconoscete qualche numero? Io sì. 14.28 È lo stesso rendimento medio del pack. Quindi lo smart pack che sembra sta figata del secolo stesso rendimento medio. Rendimento mediano 16.30 leggermente superiore dall'altro era 15.30 Qui abbiamo rendimento massimo nel caso migliore 57.116 qui avevamo 57.116 Devo dire che questo smart pack è proprio smart ecco e qui lo smart pack veramente cala le bracche nel caso pessimo investire tutto e subito fa 48% di perdita lo smart pack fa 48% di perdita complimenti ok? Non serve assolutamente a niente se non a ridurvi i guadagni Smart pack sull'Italia magari sull'Italia che fa proprio così lo smart pack va bene potrebbe essere rifà tutti i conti milioni di conti lo smart pack su Italia guardatelo questi qua vi aggiungo un po' di cifre decimali uguale a prima 0.4 meno 0.8 3.4 meno 3.7 qui forse va leggermente meglio vediamo questo è il caso mediano sì va leggermente meglio proprio a fatica si vede caso migliore 41 contro 92 qui era 37 contro 92 caso pessimo dell'Italia ecco meno 65 contro meno 67 qui almeno il pack aveva la dignità per l'Italia di fare meno 60 quindi lo smart pack almeno secondo i due top siti facendo ricerca con google come funziona lo smart pack debacle peggiore di quella del pack se avete altre idee su come funziona lo smart pack vi fate voi il foglio excel perché io arrivare alla colonna e o per calcolarmi questa formula strusa che non ha nessun fondamento scientifico io capisco che quella formula ha un fondamento psicologico dico ah il prezzo attuale è molto sotto al prezzo di carico quindi carico ancora di più ok ma da qui a dire che funziona perché il terzo sito quel sito che ho definito bla 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 la cosa più simpatica è che proprio lo elogiava come l'invenzione del secolo con questo metto la parola fine definitivamente manderò a questo video tutti quelli che mi dicono eh ma il pack basta che leggo pack come quelli che scrivono fondo obbligazionario li rimando al video sui fondi obbligazionari qui manderò a questo video tutti quelli che dicono che il pack funziona se ne avete uno diverso ve lo fate ci sono i fogli excel vi cambiate i valori se avete semplicemente un indice diverso se invece avete le regole diverse peggio per voi che elaborate regole complicate vi sistemate le regole in maniera opportuna ciao a tutti e buon pack a tutti ripeto per l'ultima volta se i soldi non li avete allora sì che il pack è la soluzione migliore e devo dire anche se per caso vi sentite il batticuore a metterci subito 10.000 euro e volete buttarne 300 alla volta quindi ci possono essere dei casi ma sono strettamente personali in cui il pack conviene la soluzione migliore e quindi la soluzione migliore la soluzione migliore